FIAB è popolare siciliana ma la vera innovazione è la traduzione dal siciliano all'italiano. Sì, questa è una grande soddisfazione per la mia casa editrice, avere potuto finalmente, a distanza di cent'anni dalla morte di P3, questo centenario è una coincidenza veramente bella e fortunata, a distanza di cent'anni dalla morte di questo grandissimo siciliano, noi riusciamo a concludere con questo volume su Colapesce il ciclo delle fiabbe popolari in traduzione integrale in italiano. Questo naturalmente non vuol dire che noi ci dimentichiamo del fatto che le fiabbe di P3 fossero nate e fossero state concepite da raccontatrici e raccontatori che parlavano strettamente il loro dialetto. Noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario e particolare da questo punto di vista perché abbiamo fatto una doppia edizione, un'edizione grande che ha tutti i testi siciliani con le traduzioni italiane a fronte e un'edizione più piccola dedicata al pubblico più generalista che invece ha le sole traduzioni italiane. Questo consente finalmente di aprire lo scrigno, di fare uscire fuori questo tesoro che è stato sepolto per tanti e tanti decenni, di fare vedere effettivamente al mondo la ricchezza e la bellezza di questo repertorio che, a detta dei più grandi studiosi mondiali della fiabba, se la batte con quello dei Grimm e molti sostengono che sia meglio di quello dei Grimm. Stiamo parlando dei valori assoluti del massimo livello possibile della fiabba mondiale. Le fiabbe al giorno d'oggi tirano ancora? Tirano e come. Le fiabbe innanzitutto fanno parte necessariamente del nostro immaginario, di tutti quanti noi. Noi non ne possiamo fare a meno, non ne sapremmo fare a meno. La fiabba è un condensato di narrazione che ha il pregio proprio per il fatto di passare di bocca in bocca e di trasmettersi per trasmissione diretta e camminando quasi sotto traccio. La fiabba ha il pregio di perdere tutto quello che di superfluo c'è in un racconto. Quello che rimane è l'anima vera. Le fiabbe sono brevi, sintetiche, spesso anche violente, dirette, non hanno passaggi mediatori, raccontano le cose come stanno. Quante fiabbe? 173 in questa raccolta, più 400 nella precedente. Un repertorio veramente straordinario. Fiabbe popolari siciliane presentate in un luogo emblematico. Diciamo che la persona che oggi noi celebriamo, perché non è soltanto la presentazione delle fiabbe, che chiudono un ciclo editoriale importante già avviato con le prime fiabbe di P3 che abbiamo presentato un paio d'anni fa e con questa ultima raccolta che è dedicata soprattutto a Colapesce, con cui si chiude tutta la pubblicazione delle fiabbe di P3. Ma è anche un'occasione importante perché celebra un personaggio che Palermo ha un po' dimenticato, ma che ha rappresentato per Palermo una direi quasi anticipatoria visione di politica e cultura messa messa al confronto dei bisogni e della realtà della città. Un secolo fa moriva, proprio il 10 aprile del 1916, P3. Quindi oggi noi celebriamo una cosa molto importante, celebriamo un'attività e celebriamo anche un personaggio che Palermo oggi dovrebbe riscoprire nella pienezza del suo ruolo culturale, civile, politico e direi anche retorico oratorio. Bianca Lazzaro, tante volte il siciliano è difficile da tradurre in italiano, specialmente certi idiomi. Sì, decisamente difficile e questo di P3 è veramente autentico, quindi la cosa anche difficile nel tradurlo è che ogni fiabba è raccontata da una persona diversa a P3, per cui ogni dialetto delle singole persone è ulteriormente diverso. Quindi è una cosa decisamente complessa. In più teniamo conto del fatto che il passaggio dal dialetto, quindi orale, alla scrittura italiana è un'altra cosa che richiede dei passaggi non banali. Il tutto a semplificare, perché la filosofia di questa traduzione è proprio quella di restituire l'oralità. Quindi pur essendo dei testi scritti, che adesso il nostro obiettivo è di darli in lettura a tutti quelli che non conoscono il siciliano attraverso la traduzione italiana e possibilmente anche una traduzione in altre lingue attraverso l'italiano. Lo scopo è quello però di non far perdere la dimensione totalmente orale di questi narratori di P3, che P3 andava a conoscere uno per uno e uno per uno si faceva raccontare la sua versione della fiabba. Per cui è effettivamente un dialetto anche molto pieno di espressioni idiomatiche, come per riprendere il suo suggerimento. Quindi molte cose sono espresse proprio con uno zac, tac, tiritumpiti, tiritampiti. Tutte queste cose, passarle in italiano, era molto più facile tagliarle, ma non le abbiamo tagliate. Il tentativo è stato sempre di mantenere tutto quello che c'era anche ai margini del racconto, della storia in sé, ma proprio quello che è il parlato dei singoli narratori. È un presente che diventa passato e diventa futuro, perché non esiste in realtà una strada dove si guarda solo il dietro o si vede solo davanti. Quindi io credo che nei vicoli e nelle case del popolo palermitano, così un po' come in tutta la Sicilia, si continuano a raccontare, si continuano a dire proverbi, filastrocchie, canzone, canzoncine. Qualcosa si ricorda e continua a vivere, altre si perdono e via. Ma la vita è così, no, non è che... Qua oggi si presentano delle fiabbe, dei racconti, ma questa voglia di sognare, ancora il palermitano verace ce l'ha? Beh, l'immaginario è l'unico patrimonio che noi abbiamo e se non avessimo avuto questo non ci sarebbero questi mezzi che stiamo usando oggi. Intanto, l'immaginario è il patrimonio vero. Poi la storia di Colapesci in particolare, oltre al significato, c'è significante, nel senso che, come si usava a dire una volta, che sotto la favola c'è la morale. Oggi sembra che non ci interessa più questo, invece è così. Cioè, Colapesci non è solo una favola. Per questo è sopravvissuto nei secoli, nei millenni. Perché è la resistenza alla lotta per la propria terra, per le proprie origini, per le proprie radici, per difendere ciò che appartiene non a te, ma all'universo. Infatti Colapesci può essere qualsiasi bambino di qualsiasi parte del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.